ciao oggi faremo un video bellissimo allora vi divido subito in squadre giada debora emma erica micchi fada marty cami ire e leti ok allora questa è una squadra come si chiama la vostra squadra dai veloce avete tre secondi 123 squadra spara voi siete la squadra spara come si chiama la vostra squadra avete tre secondi marmotte le marmotte e spara allora praticamente dovete fare così con vedere ci sono degli elastici dovete sollevare la letizia partendo dal rosso dalla riga rossa sollevate la letizia e voi solleverete l'irene e andiamo a recuperare gli oggetti che ci sono dentro al fungo chi recupera più oggetti vince le manche sono tre ovviamente se in una manche state attente perché dopo non lo ripeto se in una manche cioè scusa se se la stessa squadra vince due manche ha vinto non facciamo la terza se invece siete a uno a uno facciamo lo spareggio va bene ok pronte giusì mi aiutate andrei mi aiutate a guardare che tutto sia regolare per favore allora guardate che dovete partire dal rosso quindi è importante che tornate gli oggetti li mettete sul rosso vi state posizionando ma dovete partire sul rosso mi raccomando ecco vedete che state stanno imbragando l'irene e adesso e loro imbragano la letizia ok attenzione partite sul rosso andate indietro allora attenzione quando vi dico via quando vi dico via guardatemi quando vi dico via allora potete entrare nel bianco e dopo tutte le volte l'importante che l'oggetto rimanga nel rosso se lo lanciate e salta sul bianco dovete tornare indietro e riportarlo sul rosso va bene quindi chi quando gli oggetti sono finiti vediamo chi è la squadra che vince pronte mi potete avvicinare un po al fungo ancora ancora pronte troppo ok pronte via uno alla volta mi raccomando dai veloci rimbragati vai a prenderglielo Andre dai 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 uno solo ok stop ha vinto la squadra spara bravissime allora voi attenzione perché avevate preso due oggetti uno oggetto alla volta allora arrotolate l'ho fatto in modo che non arrotolate l'elastico perfetto allora se vi fa male l'elastico Irene e Leti mettete sotto un po di gomma piuma siamo pronte per la seconda mancia avete visto che le nostre concorrenti hanno messo la felpa dai Irene ci siamo mettiti sul rosso Irene pronte via va beh la squadra spara nettamente veloci e stop benissimo contiamo gli oggetti chi ha vinto voi quattro oggetti mi dispiace avete perso mi dispiace la squadra delle marmotte ha perso per la seconda volta hanno vinto la squadra delle spara si fa fatica speriamo che questo video vi sia piaciuto iscrivetevi se non vi siete ancora iscritti al canale e lasciate tanti like ciao 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 Grazie.